Questa rubrica meteorologica, qui con me Filippo Thierry, il nostro meteorologo. Ciao Filippo, buonasera, ben ritrovato. Buonasera, grazie Emanuele, buonasera a tutti. Hai portato anche, come stesso facciamo in questa rubrica, delle belle immagini da commentare insieme legate alla meteorologia, queste che hai portato oggi cosa illustrano? Sono davvero particolari? Ci illustrano quello che si può cogliere in natura quando ci sono situazioni invernali così siccitose all'insegno dell'alta pressione, quindi manca ovviamente e purtroppo il manto nevoso, però l'acqua riesce comunque a regalarci delle forme solide, quindi allo stato di ghiaccio, veramente interessanti. Ne ha approfittato nel modo migliore un nostro comune amico, Luciano Caporale, appassionato e appunto osservatore della natura e conseguentemente fotografo di essa, ma lo scatto, come ogni fotografo naturalista che si rispetti e come tu mi insegni, è solo il processo finale di un appassionato percorso fatto di voglia, di brama, di cibarsi con gli occhi anche dei più minuti dettagli che ci offre la natura che ci circonda e di emozionarsi con il cuore davanti a questi spettacoli. E lui ha accolto nel cuore del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, nella valle che si inoltre sotto l'anfiteatro della Camosciara, quindi punto storico in cui è nato proprio il parco cento anni fa, queste formazioni quasi sferiche di ghiaccio, la cui quasi trasparenza è sufficiente a far sì che la vegetazione e il muschio sottostante, in combinazione con la luce solare, regali queste sfumature che fanno quasi sembrare queste formazioni di ghiaccio delle pietre, vedete che compaiono delle sfumature di verde. Sono dei cristalli rotondeggianti, tra l'altro con dei disegni che ricordano un po' gli elmintoidi, quei fossili che sembrano tutti, anche forse un po' delle dita, delle impronte digitali, è pazzesco. Qui potremmo stare tra lo smeraldo e la gialla se associassimo questo ghiaccio, queste sferette di ghiaccio a delle pietre e con le venature del ghiaccio che sembrano richiamare quelle proprio della roccia, delle pietre stesse, compaiono dei punti di giallo che potrebbero essere il topazio, un letto di foglie secche sottostanti, residuo chiaramente della stagione autunnale che è andata, sembra quasi richiamarci delle sfumature di ambra, insomma veramente un campionario di emozioni davanti ai quali Luciano nel mandarmi queste immagini racconta di aver provato lo stupore e la meraviglia di un bambino, davanti a dettagli veramente minuti che bisogna avere l'occhio di osservare. Esatto, ci sono piccole e grandi emozioni perché sono veramente in pochi centimetri quadrati di superficie quello che ha ritratto Luciano, quindi bravo anche a notare queste piccoli gioielli della natura. E ci insegno che anche laddove in inverno manchi la neve, frequentare la natura e la montagna in particolare è sempre comunque un'emozione perché appunto l'acqua comunque, in queste situazioni in cui nelle valli, come per esempio in questo caso, ristagni aria fredda durante la notte, ci sono condizioni di inversione termica rispetto ai rilievi circostanti e quindi l'acqua è favorita nel passare dallo stato di vapore o liquido, quindi rispettivamente per brinamento o per congelamento, allo stato di ghiaccio, con geometrie che sono sempre sorprendenti. Sì, davvero poetiche e sorprendenti. Quindi grazie Filippo, grazie al nostro meteorologo Filippo Thierry che tornerà domani. Ora la parola torna a Sveva che ci porta sempre in montagna, però sulle Alpi, vero? Sì, oggi ho detto che viaggiavamo tra arte e natura, abbiamo parlato di Pierola Francesca ma Luciano ha mandato delle foto dove la natura si fa arte, una cosa davvero spettacolare, molto emozionante.